Buonasera e ben ritrovati su Politi Talk Pantelleria, oggi abbiamo ospite con noi Michela Silvia, coordinatrice di Diventerai Bellissima Pantelleria, ciao Michela Ciao Gigi, buonasera Grazie intanto per essere con noi Grazie a te Prima di partire lanciamo la sigla e ci ritroviamo subito fra 30 secondi Benissimo Vai con la sigla Ben ritrovati, allora Michela ci eravamo lasciati poco fa che ti stavo presentando, coordinatrice di Diventerai Bellissima Tu sei stata anche candidata alle ultime comunali nella lista di Forze d'Alia Santoro Genova Sindaco Eri già comunque coordinatrice di Diventerai Bellissima o sbaglio? Sì sì ero già coordinatrice di Diventerai Bellissima sin da fine 2016 Quindi avevamo portato il coordinamento a Pantelleria Ben che ancora non ci fosse un coordinamento provinciale Quindi il Presidente voleva appunto la presenza di Diventerai Bellissima a Pantelleria Per chi lo sappiamo tutti però lo ricordiamo diventerà Bellissima e la lista il movimento che ha supportato la candidatura di Musumeci Esatto, di cui è Presidente appunto Qui ancora è Presidente Esatto Come diventerà Bellissima? Quali sono le iniziative che in questi due anni di coordinatrice hai portato avanti sul nostro territorio? Premetto che le iniziative partono tutte sul settore sociosanitario perché faccio riferimento a quella che è la mia nomina provinciale Che è la nomina appunto nel settore famiglia, politiche sociali e disabilità Quindi il mio impegno su Pantelleria è proprio improntato sui miglioramenti e supportare appunto dei servizi, dei nuovi servizi qui a Pantelleria Quindi abbiamo iniziato però con il cercare di capire come mai appunto il nostro consultorio familiare Non avesse determinati servizi che effettivamente dovesse garantire al cittadino Quindi la nostra battaglia è iniziata da lì ed è una battaglia che stiamo continuando Perché poche sono le utenze e quindi i medici a volte rinunciano pure a venire a Pantelleria Preferiscono che il cittadino vada appunto ad effettuare le visite fuori Un altro punto che abbiamo affrontato con il quale appunto ci siamo anche confrontati con l'amministrazione E' quello di portare a Pantelleria un centro diurno per i disabili Questo centro diurno servirà un domani come centro residenziale per chi rimarrà appunto senza genitori, senza famiglie Per quei giovani o per quei bambini che adesso appunto vivono la loro disabilità in famiglia Un domani saranno emessori e quindi avranno necessità di avere una dimora Abbiamo anche individuato quello che potrebbe essere il punto di appoggio appunto per questo centro Abbiamo fatto delle valutazioni e stiamo appunto portando avanti questo progetto Altro punto è il settore nascite che ovviamente attualmente si sente nell'aria Se ne sente parlare tantissimo E infatti la pure di questo ti volevo chiedere perché in questi giorni si sta tanto fortunatamente parlando del nostro punto nascite Che come ormai tutti sappiamo è stato chiuso Non ha avuto la deroga di nuovo riconfermata E notizia di questi giorni il sindaco ha portato a conoscenza la cittadinanza Sia tramite un'intervista credo sia su itaga notizie Sia tramite una sua diretta durante una sua diretta Con cui in questi giorni puntualmente sta informando la cittadinanza Sulla problematica del coronavirus Ha fatto sapere che dal ministero gli hanno risposto Che per loro nulla osta al mantenimento della deroga E che quindi la palla era stata rimbalzata alla regione Che a quanto sembra ripeto Non prendi con le dovute precauzioni di quello che dico Sembrerebbe che forse non ha mantenuto quei requisiti Che erano stati richiesti da parte del ministero E che il sindaco diceva appunto Che sarà con la regione che bisognerà confrontarsi Per dover risolvere un problema che da parte del ministero non c'è Ieri proprio tu forse hai fatto un comunicato In cui invece in un certo senso hai un po' smentito queste affermazioni Dicendo appunto che il problema non era proprio così come era stato esposto Ci puoi dire meglio un pochettino raccontare meglio la situazione? Ma la situazione diciamo che negli anni appunto è peggiorata Perché ripeto noi abbiamo sempre avuto un punto nascita con una deroga Quindi ci si deve prima o poi aspettare una chiusura Quindi il fatto di avere deroga su deroga Non ti dà la garanzia di avere un punto nascita Non ti legittima il punto nascita Perché se vogliamo dire la verità Il punto nascita lavora pur non avendo i requisiti lea Che sono appunto quelli che ti garantiscono una tutela per il cittadino Non dovrebbe essere da parte come diceva Dove l'assessorato ha predisporre Appunto per questo lavorando su deroga E io oggi proprio l'ho specificato da una cittadina che faceva una domanda Il fatto di avere dei potenziamenti in questo settore Non si può comunque pretendere che vengano spesi dei soldi Su un reparto con deroga Perché un domani dovrà chiudere Quindi la regione siciliana non potrebbe venire mai a spendere dei soldi Su un settore che sta lavorando su deroga a scadenza Quindi il problema è trovare un accordo tra regione e ministro E ci sono delle proposte che il nostro assessore Razza vorrebbe fare E che ne parlerà appunto nel momento in cui sarà a Pantelleria Ne parlerà con tutti i cittadini Perché ha fatto una promessa Verrà a Pantelleria Perché è tra i suoi pensieri quello appunto di risolvere Che per quello che io sento dire L'assessore si è dimenticato dell'isola non è vero Posso dire che una delle priorità è quella appunto di portare al termine E risolvere questo gravissimo problema E non solo Perché comunque l'assessore non si sta occupando soltanto del punto nascita a Pantelleria Ma anche di altri settori, di altri reparti Sicuramente io giustamente tutti quanti con il buon senso Comprendiamo benissimo che in questo momento in cui il paese si sta trovando ad affrontare Un'emergenza come mai era stata affrontata dal dopoguerra oggi Capiamo benissimo che ci sono priorità anche da parte dell'assessorato alla salute Che hanno appunto, devono essere maggiormente attenzionati Però giustamente proviamo un attimino anche a metterci nei panni Io a volte diciamo sempre le mamme, le mamme ma mi piace dire che non sono le mamme Ma è la comunità perché queste mamme hanno dei mariti Hanno delle famiglie Una problematica che ci accomuna Quindi io capisco benissimo, le mamme capiscono tutti Capiamo benissimo che ci sono delle priorità Ma proprio anche in questo momento di difficoltà in cui forse fra una morfologica in cui si richiede un secondo piuttosto che un primo livello E un dover partire per mettere a rischio lo stesso bambino e la mamma Con chi comunque sia verrà lì accompagna Capisci bene che sul piatto della bilancia comincia a diventare una situazione poco sostenibile Anche emotivamente da parte, lasciamo stare l'aspetto economico Lo capisco Non è stato rinnovato neanche il contributo alle mamme Quindi, ma mettiamo da parte in questo momento Non è questo l'aspetto che forse preme di più le mamme Ma è un aspetto di serenità Dover partire quando tutti ci si ferma A loro viene chiesto di partire Quindi forse su questo punto Io dico, ora ti faccio io un'altra domanda Ma se da parte dell'amministrazione dovesse nascere una richiesta di un tavolo congiunto con le forze politiche sul territorio In maniera costruttiva Dove ognuno, come ho già detto nelle passate interviste Nel rispetto che ogni forza politica richiede e deve avere Qual è la posizione di diventare bellissima in merito a una collaborazione con l'amministra? Ci siamo come ci siamo sempre stati Perché, ripeto, noi un tavolo politico l'abbiamo già affrontato in presenza dell'amministrazione E ricordo appunto la problematica della DOC Pantelleria L'abbiamo affrontato tutti insieme con tutte le forze politiche e con l'amministrazione Diventerà bellissima, è un movimento Parto dal presupposto che comunque il nostro Presidente ha sempre detto Dobbiamo ascoltare e collaborare con tutti Al di là del colore politico Perché comunque le problematiche ci accomunano I programmi politici sono sempre quelli I problemi sono sempre quelli per tutti Quindi dico che fin quando c'è bisogno appunto di un supporto L'uno dell'altro E comunque di avere idee Perché magari sedersi significa anche confrontarci E ricavare idee Magari noi da loro e loro da noi Quindi una collaborazione ci potrebbe anche essere Come c'è sempre stata Perché siamo sempre stati un movimento abbastanza aperto E disponibile Perché questo lo posso dire E lo può dire anche il Sindaco Lo può dire l'amministrazione Siamo sempre pronti Ad essere presenti in supporto Quindi faccio l'esempio Abbiamo portato l'assessore Bandiera Abbiamo portato il Presidente L'abbiamo portato per l'isola Non l'abbiamo portato per noi Per cui era presente anche l'amministrazione Ci fa piacere Michela proprio Comunque sia per questo Passami il termine Questo canale preferenziale Con la Regione Che in questo momento diventerà bellissima Comunque sia Ti chiediamo come comunità Di sollecitare l'assessorato Capiamo L'assessore capisco benissimo Ripeto L'impossibilità oggi Magari a poter venire sull'isola Ma anche senza venire Una risposta a questo momento di difficoltà Che ripeto Le mamme e la comunità Sta affrontando Se è possibile Insieme come già ha fatto L'amministrazione Come si sono Assolutamente Le forze politiche Stanno facendo Anche voi che avete Un po' Un canale preferenziale Guarda ti posso dire Gigi Che No ma ti posso anche confermare Che ultimamente Ho sentito l'assessore Razza Quindi abbiamo una bellissima collaborazione Tra noi Movimenti Partiti Del centro-destra Quindi ci confrontiamo Ed è stato sollecitato Appunto Il nostro assessore Proprio per affrontare Questa tematica E per rassicurare Poi altro Le mamme Quindi Ha garantito la sua presenza Quando terminerà E mi spero E spero appunto Che terminerà presto Appunto questo periodo Di allerte E questa quarantena Quindi Verrà a Pantelleria Avremo modo appunto Di chiedere E di avere delle risposte Speriamo Michela Perdona Io sono un po' Pragmatico Sempre Speriamo che Saremo felicissimi Lo solleciteremo Però prima Se aspettiamo che finisce La problematica Che tutti ci auguriamo Finisca presto Cerchiamo magari Prima di avere qualche risposta Assolutamente Certo Prima di salutarci Michela Quindi Un'ultima domanda Che un po' La stessa Che rivolgo A delle forze politiche Che sono state ospite Qui da noi Che rapporto hai Con l'amministrazione Mi è sembrato Comunque sia Di dialogo E con le altre forze politiche Sia di destra Che di sinistra Sul territorio Ma il dialogo È con tutti Tant'è vero Che ho partecipato Ad un Ad un tavolo politico Con Organizzato dal PD Quindi Ripeto Io sono del parere Che è una sana Partecipazione Un sano confronto Fa sempre bene Non può far male Quindi Ho partecipato E parteciperò Ovviamente Ad ogni convocazione Che provenga Da qualsiasi Partito politico Siamo disponibili Ad ogni confronto Con l'amministrazione Ripeto Siamo disponibilissimi Va bene Prima di salutarci Faccio un invito A chi ci ha seguito Se gli è piaciuta La puntata Di lasciare un like Se non l'avete fatto Di iscrivervi Al nostro canale E Michela Intanto Grazie per il tuo tempo Di essere stata con noi Sicuramente Speriamo di poterci risentire presto E riaverti di nuovo ospita Magari per una bella notizia Grazie Sicuramente Vi aggiorneremo E presto Incominceremo anche Dei confronti Fra le varie forze politiche Direttamente Più ospiti Contemporaneamente Grazie per il tuo tempo E un saluto a tutti Ciao E alla prossima Grazie 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 a tutti